e la leggenda dice poi che lui si penticò di Nicandro Bucci perché lui aveva cattiva coscienza per quello che aveva fatto quindi gli erano venute della specie di turbio mentale, vedeva la faccia di Domenico Focco da tutte le parti e un giorno fu accredito da una grossa aquila, sempre lì sulle Mainarte, ebbe un talo spavento che morì poi la leggenda popolare ha detto che quell'aquila era la reingarnazione di Domenico Focco la nemesi greca, torniamo al mito la nemesi greca, questa è una leggenda chiaramente sì sì ma è mitologica, la nemesi greca fa parte della mitologia